Si chiama Jack Johnson, è un attore inglese e pensate che ha compiuto tutta una serie di operazioni chirurgiche e quindi estetiche con la bellezza di 25.000 euro spesi, tutto ciò per diventare il sosia dell'ex calciatore inglese David Beckham almeno ciò era il suo giudizio, la trasformazione John da un po' di anni ce l'aveva in testa, ha deciso quindi di cambiare totalmente il suo aspetto estetico, fisico il ragazzo di 22 anni d'età adesso desidera cambiare addirittura sesso, diventare identico a Victoria Beckham, la moglie del famoso calciatore in questione Jack Johnson ha fatto sapere che vuole diventare la sua gemella Adoro la moglie di Victoria così tanto che ho persino portato i suoi tacchi alti, adoro il suo viso, il suo corpo, amo tutto di lei diventerò sua gemella quando avrò fino a tutte le operazioni del caso Ovviamente queste operazioni hanno un costo anche piuttosto elevato ma il ragazzo in questione sembra voler sostenere a tutti i costi il prezzo di questi interventi chirurgici barra estetici Assurdo tutto ciò dal mio punto di vista, vi ringrazio per l'ascolto, ci sono persone che vogliono assumere i VIP Io voglio essere sempre su me stesso e voi, chi volete essere, voi stessi o altri Saluti, iscrivetevi, al prossimo video